Benvenuti a questa nuova video preview, oggi vi parlo di HTC Sensation XL, il nuovo smartphone HTC basato sul sistema operativo Android e dotato di Beats Audio, un sistema in grado di migliorare la qualità della musica. Basato su una piattaforma Qualcomm a 1.5 GHz e dotato di 768 MB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna sono disponibili 16 GB e lo schermo è un modello da 4,7 pollici di tipo Super LCD e risoluzione di 480 x 800 pixel. Per quanto riguarda la connettività Sensation XL è un terminale completo, è presente il Bluetooth 3.0, il Wi-Fi in versione N, la GPS e tutti i sensori ambientali. Per quanto riguarda invece la fotocamera è presente un sensore da 8 megapixel accompagnato da un doppio flash LED e abbinato a un sensore BSI in grado di catturare più luminosità durante lo scatto e quindi riprodurre fotografie migliori. Le dimensioni sono pari a 130,6 mm di altezza, 70,6 mm di larghezza per uno spessore di 9,9 mm. Il peso sono 162,5 grammi. Sotto lo schermo da 4,7 pollici frontali sono allineati 4 tasti a sfioramento per l'interazione con il sistema operativo Android. Nel bordo destro abbiamo il bilanciere del volume, mentre nel bordo sinistro abbiamo il connettore micro USB per la ricarica e trasferimento dati. Nel bordo superiore abbiamo invece il jack da 3,5 mm e il tasto di accensione e stand-by. Nella parte posteriore vediamo il sensore da 8 megapixel della fotocamera abbinato al doppio flash LED. Rimuovendo lo sportello posteriore accediamo al vano batteria, in cui vediamo qui la batteria e in questa zona il vano per la sim. HTC Sensation XL è quindi uno smartphone Android di fascia alta, dato di una piattaforma hardware potente, una buona fotocamera e soprattutto a beat studio, quindi adatto a tutti gli appassionanti della musica. Vi ringrazio per averci seguito in queste video preview. Appuntamento, alla prossima!